Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati in questo nuovo video Oggi apriamo il magazine ufficiale E ti danno delle LOL Surprise Ti danno il selfie kit che è la sorpresa E sopra ci sono Beats, Sugar, Fancy, Splash Queen, Queen Bee e The Queen E qui sotto ci sono le loro lil E dicono, novità, hashtag LOL Surprise Che notizia pazzesca, mi è costato 4,99€ Lo trovate in edicola E andiamo subito ad aprirlo Scusate un secondo Aspettate Ok Piano piano ce la sto facendo Ah, e qua dietro c'è il cartone che protegge di sotto Allora Qua c'è l'album Ah, qua dietro c'è... Non so cosa si deve fare questo E questa è la sorpresa Aspettate, non voglio fare danni Ok Andiamo subito... Intanto si lanciano cose Andiamo ad aprirlo Ops Ehm 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 C'è C'è anche di là Ehm Scusate Non sapevo come aprirlo Ehm Ci sono un cappello Queste cose qua C'è anche... Ci sono anche queste E queste con la... Questa collana Il fiocco E il microfono Che bello Ok Dietro non c'è niente Qua ci sono questi occhiali Che non capisco di chi sono Perché magari qualcosa è di qualche rol Vabbè Questa è di Spice E mi... Mi sembra che dietro c'è di... Quello di Sugar Sì Ah Queste due le abbino a questo Così almeno Lo faccio Si sta già staccando Vabbè Questo lo... Così faccio il selfie E ci metto questi insieme E... Vabbè E' bellissimo Li stacchiamo tutti Velocissimamente Vabbè Si stac... Stacchi una cosa E si staccano altre... Altre cose Va bene Non so che ho fatto di male Ok Questo kit è vera... Cioè Sì Questo kit è veramente carino E lo potete usare per fare un sacco di selfie E per... E potete abbinarlo A tantissime cose Beh Questo di Sugar Lo potete abbinare sia all'azzurro sia a rosa Quello di Spice Lo potete abbinare a rosa e a rosso E' bellissimo E' bellissimo questo magazine Cioè almeno per la sorpresa Ok E ci vediamo tra poco che li stacco tutti Ok ragazzi Li ho staccati tutti I... I selfie Quelli per fare i selfie Dopo li metterò in un... In dei bastoncini Ora andiamo a vedere l'album Qua ci sono tutte le cose che ti farà vedere Ah questo è un teeny coriandoli se capito Questo qua è Che dobbiamo fare Allora Qua Dalle LOL Surprise Dalla A alla Z Bene No io adoro Teacher's Pet Ok passiamo avanti Qua ti fa vedere Come fare queste cose Che non so cosa sono No che belle le... Queste unghie Qua ci sono le trova le differenze Bene Sugar Pop Eh ma è tipo un righello Guardate Tutto qua Questo è Quale dell'Opposite Club Sei Ok Qua è È la risposta Qua c'è In quanto tempo riesci a trovare Miss Baby Crystal Queen E Fancy Io ho già trovato Crystal Queen Poi cerco le altre Ok Allora Questo ce l'ha una mia amica Poi Qua Ah ti fa Fare un Il cerchietto da Di Baby Cat Cioè Tipo Allora Loro due Sono del Glam Club Ci sono scritti tutti i nomi Cosplay Club Hip Hop Club Glitterati Theater Storybook Opposite Li so tutti Bene Ok Questa 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 E questa E questa Tutte praticamente E questa Tutte del Glam Club Poi Ah qua Ci sono tutti i messaggi Ma Sto notando una cosa Questo Biberon È Quasi uguale Vabbè Qua Ah Questo lo faccio subito Perché ho già capito Chi è Allora Chi sarà mai Colori preferiti Rosa Fucsia E azzurro Club Theater Questo è l'indizio segreto L'accessorio che si deve mettere in testa Motto Facciamo un tuffo Indizio ravvicinato Una coda da sirena azzurra Qua Si scrive il nome Ed ecco qua Mer Baby Ok Qua c'è scritto Hai indovinato È Mer Baby Qua ci sono tutte le cose Che Usciranno Presto Questo Uscirà Dalle È uscito già da un po' Dalle prime settimane di luglio Quindi Conosciamo il club Glitterati Io ce l'ho lei Ma non Non c'è Sugar Queen Peccato Vabbè Qua ci sono i migliori I cinque migliori scherzi Di pranksta Bene Questa mi sa che è da colorare Poi Questi sono tutti gli scherzi E Andiamo Qua Perché devono mettere le api Ape 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 Questo cos'è Questa foto non capisco cos'è Allora Qua ci sono i disegni Questa bambina ha dieci anni E disegna Benissimo Punk Boy Una mia amica Ha la sua Lil Questa Io ce l'ho Diva Glitterata Oh Qua che bello Ti fa Se fai vedere La tua lol Che ti piacerebbe Molto Essere Ti fanno Diventare la lol Qua Qua non voglio assolutamente guardare Passiamo subito qua Se volete Voi potete guardare Allora Qua il regalo La tiara e la fascia Questa è la fascia di Miss Baby E la tiara Che bello Dal 5 settembre E dal 10 agosto Qualche giorno dopo Del mio compleanno Benissimo Perché il mio compleanno È il 3 agosto E Qua È per fare Questo qua Bene Allora Mi ero accorta Che eravamo arrivati Alla fine Ah qua Ti fa Ti fa vedere Cosa devi usare Beh ragazzi Ve lo consiglio tantissimo Il magazine E Per 4,99 euro È bellissimo E Vabbè Da tutte le cose Lollose del mondo Vi saluto Ciao Al prossimo video